Buongiorno a tutti, sono sempre Vittorio Santote e questa non è un'ora potente lungo, no, allora oggi voglio informarvi che venerdì 20 maggio ci sarà un evento per l'uscita di X-Men Apocalypse presso il cinema Movie Planet di Bellinzago Novarese allora, come funziona? Ci troviamo in zona casse alle ore 18.45 in modo che aspettiamo che di arrivare, cazzeggiamo come al solito chiacchierando poi alle 19.30 andremo a vedere il film tutti insieme poi una volta finita la visione verso le 22 ci trasferiremo nell'apposita area allestita dove discuteremo del film, il tutto avrà filmato e caricato poi su canale YouTube di Movie Planet come facciamo sempre per quanto riguarda questo tipo di eventi e come al solito ci sarà anche il quiz a premi e i premi questa volta sono il Blu-ray di X-Men Giorno in futuro passato in versione Rogue Cut che è quella con tutti i controlli speciali e scena tagliata che è una figata allucinante e una statuetta di magneto che non posso mostrarvi perché non mi è ancora arrivata ma troverete un link per visionarla in descrizione qui sotto sto attenendo questo film con una interpretazione mostruosa io quando faremo l'evento l'avrò già visto perché lo vado a vedere in anteprima ma sono veramente curioso di vederlo con voi perché ultimamente si sono sentite delle critiche contrastanti quindi sono veramente interessato anche alla vostra opinione come al solito vi abbraccerò fino a spezzarvi le osse chi ha sperimentato i miei abbracci brevettati sa che non scherzo che ci sono già state delle costole inclinate ben più di una volta quindi ricapitoliamo venerdì 20 maggio alle ore 18.45 presso il cinema Movie Planet di Bellinzago Novarese poi alle 22 quando finire il film guarderemo cioè ne parleremo un po' non capisco perché ultimamente questi cinecomics li facciano così lunghi due ore e mezza, due ore e quaranta non lo so però sta in fatto che il film inizierà alle 19.30 per cui spero di vedervi numerosi così posso abbracciarvi e discutere con voi non solo del film ma anche di cinema in generale perché sapete che poi dopo si sta anche un bel po' a chiacchierare ed è più ed è meno quindi io vi aspetto all'evento ho sperato troppo in descrizione qui sotto naturalmente troverete il link all'evento su facebook così potete mettere la vostra partecipazione nel caso voleste farlo noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog ciao a tutti